Sicuramente quella è stata un passaggio importante ma la violenza sulle donne che si esplica in molte forme non può essere gestita solo a livello repressivo, quello è uno dei punti ma secondo tutti va anche gestito a livello culturale cioè educazione, formazione, formazione dei nostri figli nelle scuole ma anche formazione di chi poi si deve occupare di assistere le vittime della violenza, quindi è un percorso culturale che è lungo ma che noi abbiamo già iniziato quindi io mi sento di dire che noi oggi su questo siamo veramente proiettati verso un cambiamento culturale un cambiamento importante che dovrà portare alla maggiore riduzione di quel numero intollerabile di donne uccise perché donne e quasi sempre da chi avrebbe dovuto volergli bene.